con poco più di 30 secondi sul cronometro che vi danno il benvenuto alla nuova puntata di security break buongiorno a tutti e ben ritrovati sul canale di security cert la community italiana di ethical hacking come sempre io sono francesco ainano cossu e con me c'è il caro giorgio primate per ticone buongiorno giorgio aspetta perché ti abbiamo un attimo perso prova dite se ci sono ci sei ci sei grande ciao buongiorno a tutti intanto volevo ringraziare salted caramel per il suo follow a 10 minuti dalla live grazie mille ben arrivato e diamo anche il buongiorno a chi già ci sta seguendo ovviamente che ancora però non si è palesato in chat mi aspetto anche gli affissionados di questa domenica mattina siamo alla puntata 12 13 credo la dodicesima buongiorno buoncini verdi 12 o 13 al massimo si credo sono indeciso onestamente abbiamo superato già la decina da un po ecco da un paio di settimane sono arrivato al mio obiettivo di vita ah ok il tuo obiettivo le 10 live l'abbiamo superato apposto così perfetto perfetto vediamo che dire abbiamo grandi novità per questa settimana parleremo come sempre di un po di argomentini interessanti in realtà già annunciati sul sul server di discord però li rivediamo un attimo insieme allora abbiamo detto che questa settimana affronteremo innanzitutto come dire un po il il problema inverso cioè ultimamente ci lamentiamo tanto visto il conflitto russia ucraina degli hacker russi che in qualche modo prendono piede e cercano di fare un po insomma di alzare un po la sticella del caos anche in russia si piangono lacrime amare a quanto pare perché un nuovo malware sta iniziando a diffondersi soprattutto negli uffici dei sindaci e nelle corti di giustizia a quanto pare buongiorno very slow flyer ci ho messo un attimo a dividerlo in parole ben arrivato e buona domenica anche a te ben arrivato o ben arrivata non lo so è tornato Giorgio nel frattempo dopodiché parleremo di cyber espionaggio quindi espionaggio incredibilmente cyber ovviamente vedremo un attimino una tecnica che in questi giorni viene utilizzata da hacker sembrerebbe cinesi nei confronti di entità filippine almeno questo dice l'articolo ma lo vedremo nel dettaglio più avanti torneremo a parlare di LastPass il software di Password Management che di nuovo di nuovo mi verrebbe da dire è stato vittima di un data breach e ha esposto dati non solo di LastPass ma anche della sua consorziata diciamo così di GoTo e in ultimo non per importanza ovviamente parleremo del metaverso oggi parleremo un po' del metaverso parleremo delle multe che sono state come dire emesse dal garante della privacy irlandese se non sbaglio non vorrei sbagliarmi ma soprattutto parleremo anche del breach che sembrerebbe aver subito Whatsapp Frozen mi devo essere perso orecchie intanto buongiorno vediamo vediamo vogliamo già iniziare Giorgio oppure abbiamo allora anzi abbiamo un paio di annunci da fare oltre il solito annuncio di servizio per cui vi ricordiamo che le live di Security Break sono disponibili sia sul canale YouTube circa la sera della live il giorno dopo al massimo ma soprattutto sono disponibili anche in formato podcast su Spotify quindi ci trovate su Spotify l'altro annuncio invece riguarda la recentissima partnership chiamiamola partnership tanto la vedrete scorrere a breve con il bannerino pubblicitario con INE quindi l'azienda che eroga corsi Cyber Security abbiamo questa partnership per cui andate a dare un'occhiata tanto uscirà il messaggio anche in chat ecco appunto è uscito poco fa ci sono dei prezzi interessanti per corsi altrettanto interessanti intanto buongiorno anche da Adidos sì ho letto che stai poco bene e sei autenticato a cui il dottore Adidos ha prescritto di guardare ogni mattina ogni live non ogni mattina ogni live una bella dose di Security Cert Giorgio io non so te non ho altri annunci di servizio chiamiamoli così quindi per me possiamo anche cominciare e prenderci per una volta alle due ore piene per i nostri articoli per i nostri vabbè per gli articoli da analizzare non voglio prendermi il merito se riusciamo a farceli bastare se riusciamo a farceli bastare ci sta che non è detto può darsi ma non è detto vedremo va bene allora io cambio la nostra scena e con questo bel faccione inquietante stile The Game direi che è il momento di iniziare quindi lo vedete dal titolo Bleeping Computer ci offre un bel titolone New Cry Wiper Data attenzione Data Wiper non l'avrei proprio intuito dal Cry Wiper prende di mira le corti di giustizia russe e gli uffici dei sindaci quindi cosa è successo fondamentalmente un malware non ancora conosciuto almeno da quello che ci dicono i ricercatori di Kaspersky si sta mascherando come un ransomware e questa è una cosa che abbiamo già visto no Giorgio il Wiper non ricordo il contesto dove abbiamo visto una cosa simile ma di fatto non è la prima volta che parliamo di un malware che si spaccia da ransomware quindi ti cifro i dati ma poi te li restituisco se mi paghi o almeno o you o almeno questa è la maniera in cui vengono insomma progettati si 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 invece insomma analizzando poi il codice in sé si scopre che sorpresa 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 i dati non te li ridanno no allora in questo caso fondamentalmente si è i ricercatori di Kaspersky si sono accorti di questo data wiper o meglio hanno avuto notizia di questo ransomware l'hanno analizzato e hanno scoperto che in realtà si maschera soltanto con un ransomware ma nella realtà distrugge i dati fondamentalmente quindi come diceva Giorgio ti chiedono un riscatto ma pagare o meno non cambia niente perché tanto non possono restituirti i dati e vedremo a breve parto già con i miei pipponi noi abbiamo parato un sacco di volte di ransomware in realtà proprio perché ormai è una notizia se non settimana giornaliera l'ordine del giorno ormai e il punto è che noi diciamo in realtà sempre che con ogni tipo di ransomware non hai mai la garanzia che ti venga inserito qualcosa anche nel caso in cui vai a pagare il riscatto esatto ma perché stai avendo a che fare con dei criminali e i criminali per quanto possono essere per definizione come dire non sono credibili per definizione ci sono stati molteplici casi in cui anche nel momento in cui si va a pagare non si rientra in possesso dei dati non si rientra in possesso magari di tutti i dati o comunque non è quella la preoccupazione criminale sicuramente dato il business che si è venuta a creare alcuni di loro hanno l'interesse nel pagare per per mantenere un'immagine come dire per incentivare il prossimo la prossima vittima a pagare perché sanno che la vittima precedente ha magari ha riottenuto i dati però la verità è quella diciamo non c'è un fluss in cui la certezza matematica non potete averla ecco c'è da dire che appunto la specifica è proprio per mantenere la faccia per mantenere questo business molti come dire molti gruppi criminali appunto decidono di restituire perché altrimenti il gioco non regge più come dire ma tra l'altro c'è un altro aspetto uno tu non puoi fidarti dei criminali che potrebbero non potrebbero decidere alla fine di restituirti i dati due comunque non è il loro obiettivo primario quello di restituire le date quello di ottenere i soldi per cui niente di strano che il malware in sé può avere un qualche tipo di problema di bug il che fa sì che anche volendo restituirteli poi il meccanismo non funziona e perdi una parte dei dati e riempieni solo una frazione di quelli che sono stati cifrati e così via ma qui con questa notizia abbiamo un altro un altro step in più cioè andiamo a vederlo andiamo a vederlo intanto vai allora nell'autunno del 2022 quindi pochi mesi fa Kaspersky appunto ha avuto le prime notizie questi tentativi di un Trojan come lo definiscono giustamente loro precedentemente sconosciuto che è stato nominato appunto Crywiper sta attaccando queste reti russe c'è ovviamente il report di Kaspersky per chi fosse interessato magari dopo pubblichiamo il link sul forum come al solito e ovviamente in realtà i media russi ci fanno sapere poi che il malware era stato è stato era stato è stato utilizzato più volte per attaccare appunto gli uffici dei sindaci e le corti di giustizia questa cosa carina nel senso Kaspersky di per sé non ha esplicitato chi erano le vittime del ransomware i media hanno pensato bene di farlo i media se ne sono strafregati ecco sempre perché insomma avere il controllo delle notizie è fondamentale sapere cosa esce e cosa entra beh se ci pensi comunque sono due aspetti diversi ovviamente Kaspersky tra virgolette tira fuori il report un po' per marketing rispetto alla propria azienda noi abbiamo identificato il malware noi l'abbiamo analizzato queste sono le nostre skill questo è quello che possiamo fare ok quindi è una sorta di dimostrazione all'azienda però hanno l'interesse di proteggere i propri clienti certo dall'altra parte i media hanno interesse a metterli alla berlina mi sembra perfetto esatto mi sembra perfetto non vedo falle in questo piano giornalistico come dire però di fatto è quel che fanno cioè giusto o sbagliato che sia è carino capire come funziona oggi no il mondo dell'informazione sì è chiaro è chiaro è che poi è il campo di guerra fondamentale chi ha le informazioni ha tutto esatto e come dire almeno per come la vedo io il fatto che i media russi abbiano gli stessi media russi abbiano tirato fuori i target è un po' come darsi la zappa sui piedi è un po' come dire guarda che quelle reti sono vulnerabili quindi se qualcuno vuole fare qualcosa prego accomodatevi sono notizie che comunque escono dai confini della federazione russa del resto abbiamo visto con l'avvento di internet il cambio dei paradigmi prima una notizia impiegava x giorni per arrivare dall'altro capo del mondo adesso in pochi istanti chiaramente fa il giro del globo intanto benvenuto Salvatore buongiorno anche a te buona domenica qualcuno se l'è cantata e se l'è cantata anche malino almeno per come la vedo io dal mio punto di vista è veramente cantarsela male nella maniera più sbagliata possibile ma nel periodo storico più sbagliato ovviamente nel periodo storico più sbagliato bisogna sempre contestualizzare che cosa fa questo simpatico wiper allora è un eseguibile windows 64 bit nominato browser update .exe quindi di nuovo perché non è nemmeno questa la prima volta che vediamo un malware mascherato come l'update di un browser con tanto di nome bello in vista scritto in C++ configurato per abusare di molte funzioni WinAPI allora all'esecuzione crea chiaramente dei schedule task quindi dei come dire dei non mi non mi viene non mi viene in italiano schedule task sono i dei processi schedulati sì processi schedulati allora intanto scusami intanto buongiorno Rocco ben arrivato operazioni pianificate grazie ad entrambi ecco operazioni pianificate io avrei una proposta vogliamo scambiarci noi vediamo da quella parte vi giuro ragazzi mi si intreccia il cervello perché poi parli in italiano leggi l'articolo in inglese nel frattempo ci ragioni su perché cerchi di tirar fuori spunti interessanti ogni tanto si incastrano le rotelle del cervello poi qualcuno diceva questa roba di domenica mattina esatto diceva di dosse se invece fosse strategia contate quanti accanto europei Kaspersky ha perso per la guerra sì ma ci sta che Kaspersky faccia la sua pubblicità e dica noi abbiamo scoperto questo noi abbiamo scoperto quell'altro se non sbaglio fu proprio Kaspersky tra l'altro il gruppo di ricerca di Kaspersky o era Saimantec su Staxnet non ricordo credo che il first responder fosse Kaspersky non vorrei sbagliarmi Staxnet non vorrei in realtà fosse Cosimantec no 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 credo fosse o Saimantec almeno nel documentario che girava prima su YouTube adesso a pagamento se non sbaglio su Amazon Prime cioè Zero Days mi sembra che erano i ricercatori di Kaspersky che fecero un po' da first responder all'incidente Staxnet vabbè comunque c'è da dire che ribadiamo di nuovo Kaspersky non ha rivelato i target sono stati poi degli altri giornali di fatto dei media online che l'hanno fatto per cui in realtà ma Kaspersky credo anch'io che voglia tra virgolette proteggere i clienti oltre la Russia però tra virgolette lo fa con tutti no non espone le informazioni direttamente dei clienti un po' come fanno un po' tutte le altre aziende simili una sorta di responsible disclosure del resto voglio dire sì che poi dipende sempre dagli accordi che prendi con il cliente perché in ogni caso tu stai anonimizzando un po' l'analisi che hai fatto per il cliente e poi comunque chiedi solitamente al cliente il permesso di condividere quell'informazione con o senza il nome del cliente stesso allora a parte che io penso di essermi sentito male nel rispondere a Rocco solo scrivere quella frase è una cosa per me che mi distrugge ma torniamo un attimo al nostro articolo quindi abbiamo detto crea delle operazioni pianificate quindi degli schedule task che ogni 5 minuti vengono avviati contatta un server di comando e controllo con trasmettendo fondamentalmente il nome della macchina infettata il comando e controllo risponde con run o do not run quindi esegui o non esegui eseguire o non eseguire vogliamo semplicemente per determinare appunto se il wiper deve iniziare il suo lavoro o rimanere dormiente Kaspersky vabbè dice di aver visto una un delay di esecuzione quindi un ritardo nell'avvio del wiper di circa 4 giorni però dice semplicemente probabilmente è stato messo lì questo ritardo per per confondere ok prenderemo due minuti per analizzare questi tre passaggi che hai appena detto perché secondo me sono interessanti prima le operazioni schedulate ogni 5 minuti cioè praticamente il malware ritenta ogni 5 minuti di nuovo di partire e di chiedere di fatto al comando e controllo se partire o meno esatto quindi si attiva fa la sua chiamata e dice ok che devo fare io direi per due motivi uno se per qualsiasi motivo al t0 cioè al primo momento in cui parte non c'è connessione comunque non riesce a partire lui ci riprova finché di fatto non non riesce a causare il danno per cui è stato ingegnerizzato no poi è carino il discorso del contattario comando e controllo per partire o meno cioè evidentemente questi software oggi sono di nuovo pianificati ingegnerizzati per non per colpire tutto in maniera cieca esatto avere una discriminante in un certo senso discrimini il tuo target se noi ci ricordiamo mi piace fare sempre la comparazione con WannaCry sì che è stato molto famoso come ransom che era 2017 se non sbaglio giù di lì? sì credo 2016 2017 sì cosa era successo lì il software era semplicemente scritto per cifrare tutto quello che trovava replicarsi in tutto in tutti gli altri sistemi vulnerabili alla stessa maniera e ricifrare tutto così insomma ad oltranza finché insomma non si è sparso per il mondo e ha fatto un danno gigantesco però era incontrollato ok è vero che insomma chiedeva riscatto a tutto il mondo però non aveva discriminante esatto usciva dal controllo del criminale in quel caso lì qui invece ogni volta che un nuovo sistema viene cifrato di fatto l'operatore ha l'ultima parola e l'operatore a stabilire tramite il comando e controllo tramite l'infrastruttura di controllo del malware se far partire la cifratura oppure no ultima cosa quello che avevi appena detto che Kaspersky ha individuato che almeno in un caso c'è stato un delay di 4 giorni cioè io prima infetto il sistema e da quando ho infettato il sistema e poi comincio a cifrare tutto passano addirittura 4 giorni 4 giorni il motivo più plausibile che anche Kaspersky specifica è invece di farti individuare esattamente il momento in cui ti infetto come ti infetto il vettore di attacco ci sono tante cose tante cose qual è stata la prima macchina magari perché non è detto che la cosa non si sia propagata in qualche modo in realtà non viene anche specificato ma nel caso di un ransomwareware poi questo magari non è il caso ma generalmente può essere anche utile per dare il tempo agli attaccanti di nel frattempo trovare altri sistemi spargersi di più creare persistenza ed eventualmente fare exfiltration prima certo hai un pivot hai diciamo una testa di ponte nella rete e la sfrutti per vedere tutto quello che c'è dietro se puoi espanderti ti espandi devo dire che oggi abbiamo una chat molto attiva sono molto contento di questo e vorrei la riprendo io non ti preoccupare perché ci sono due spunti interessanti uno da DDoS che dice per me si è detto che Putin aveva dato il via ad attacchi verso l'Europa e che Kaspersky poteva non detectare di proposito i malware aspettate perché mi scorre la chat e quindi mi perde messaggi qui entrambe le cose sono messe in dubbio i russi attaccano tutti e l'antivirus non fa eccezioni mi sembra un'opera di tentato riavvicinamento no non credo perché in questo caso sono proprio i russi le vittime quindi a meno che veramente non ci siano dissidenti diciamo gruppi anti Putin però sappiamo insomma la situazione in Russia l'abbiamo vista all'inizio del conflitto quando ci sono state le prime proteste abbiamo visto come è stato represso il tutto quindi non escludo gruppi diciamo sovversivi dissidenti però non mi sembra un attacco diciamo da insider perché avrebbe colpito altro secondo me non si sarebbe solo un attimo di incompensione sul fatto che questa notizia di cui stiamo parlando parla di Kaspersky che protegge di fatto un'organizzazione russa l'infrastruttura russa esatto non un altro loro cliente europeo anche perché credono con quello che dice di Dossi in generale semplicemente lo sta dicendo questa cosa qua questo sì assolutamente io non escludo che sia stato fatto specialmente all'inizio del conflitto quando Kaspersky ha iniziato a perdere fondamentalmente i suoi clienti occidentali assolutamente ha fatto molti sforzi adesso non ricordo non riesco a fare degli esempi specifici ma sappiamo benissimo tra l'altro che molti governi hanno vietato l'utilizzo di software russo comunque filo russo nelle proprie infrastrutture no? Kaspersky fra i tanti sì o vietato ufficialmente o comunque praticamente tutti gli stati hanno fatto cioè all'interno di tutti gli stati si è fatta propaganda anti-Kaspersky e anti-aziende russe in generale esatto esatto e poi Rocco giustamente ci dice spesso e volentieri ci sono anche meccanismi anti-sandbox allora non sembrerebbe questo il caso nel senso che dall'analisi di Kaspersky almeno da quello che è stato pubblicato dell'analisi di Kaspersky non si evincono tecniche di evasioni di sandbox però fondamentalmente sì esistono modi esistono tecniche per far sì che il malware si accorga di essere all'interno di una sandbox o di essere fondamentalmente eseguito in ambienti per esempio virtuali e semplicemente o non si esegue o esegue delle funzioni legittime quindi non dà segni di comportamenti malevoli credo che Rocco si stesse riferendo quando abbiamo fatto una serie di supposizioni del perché aspettasse 4 giorni sì 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 probabile probabile può essere benissimo essere che anche nell'ottica di non farsi automaticamente identificare come malware malevolo nel senso eseguibile scaricato che subito avvia tutta una serie di operazioni prima vengo scaricato poi rimango silente per un X tempo che è di fatto meno è un po' più stealth diciamo mettiamola così no guarda dal punto di vista mi metto un po' nei panni del nostro caro Claudio Fostox no con il suo il suo SOC e anche da da operatore forense no andare a fare l'analisi di un evento del genere andare comunque a fare l'acquisizione di una macchina che viene infettato da un malware simile non è semplice perché nel momento in cui vai a creare la timeline specialmente la timeline dei processi magari ti accorgi del processo che però ha un nome totalmente diverso dal suo eseguibile quindi non è semplicissimo ci si arriva è chiaro che poi piano piano ci si arriva come ci è arrivato Kaspersky cioè voglio dire non è che loro hanno inventato l'acqua calda dimette di fatto i bassoni tra le ruote nell'analisi esatto esatto semplicemente è un rallentare l'analisi o comunque mettere i bassoni gettare un po' di fumo mettere un po' un bel fumogeno in bella vista poi un altro paio di cose che l'articolo specifica si torniamo all'articolo io ricambio scena nel frattempo intanto buongiorno official pappone non sapevo di queste tecniche di bassoni anti sandbox si ce ne sono ce ne sono parecchie beh questa è nemmeno un anti sandbox l'aspettare quattro giorni è un modo per accorgerti se stai girando appunto in ambienti virtualizzati perché magari vengono spenti o semplicemente perché l'esecuzione è come dire temporanea l'ambiente è attivo x tempo il tempo di esplodere tra virgolette il malware e poi smette di esistere semplicemente dicevi Giorgio qualcosina ancora interessante sull'articolo un paio di cose il di fatto l'eseguibile e si preoccupa anche di stoppare processi relativi a ma si quello si quel server database e via dicendo i server mail e l'active directory esatto nell'ottica di avere accesso a quei file sotto quei processi lì cioè se io ho un database su quel server il database è loccato come dire è impegnato tra virgolette da un altro processo cioè nessun altro processo può accedere a quei dati a quel file perché è attualmente in utilizzo di quell'altro processo quindi cosa fa vado a stoppare prima l'exchange server il db server e quant'altro così io posso dopo avere accesso a quel file è un po' come quando cerchi di staccare una chiavetta e ti dice guarda che ci sono file ancora aperti diciamo che il primo processo che sta utilizzando esatto quel quell'endo lì e quindi non te lo lascia fare e in ultimo il fatto che in realtà questo è molto comunico specialmente per i ransomware vada a cancellare le shadow copies quindi quel ricordiamo esatto ricorda con i tuoi appunti come dire con le tue noticine a piedi pagina cos'è una shadow copy sostanzialmente quel meccanismo intrinseco di windows di microsoft windows che va a creare dei punti di ripristino dei file motivo per cui anche nel momento in cui tu mi hai cifrato cancellato o corrotto i file potrei averne una versione precedente che posso semplicemente restaurare quindi ripristinare fondamentalmente va a cancellare quelli che sono i backup automatici sì una sorta di backup automatico vi ricordo che non si possono postare link in chat quindi se volete passare un link passatevi direttamente o a all'account del canale quindi a seguiti cert oppure passateli a me o a giorgio e magari li pubblichiamo noi tra l'altro ragazzi ci sono dei link su cui sarebbe carino discutere perché sono altrettamente interessanti abbiamo il canale discord scusate abbiamo il server discord e il canale dedicato a security break che è stato insomma messo giù apposta per questo motivo qua quindi vi invito anche ad entrare su server discord e continuare le conversazioni e aggiungere quante altre esatto e fonti avviate altra cosa modifica il malware modifica i registri di windows per prevenire le connessioni da remoto quindi vedete remote desktop protocol non viene tra virgolette accettato non consente connessione attraverso RDP fondamentalmente per lo stesso motivo che dicevamo poco fa cioè mettere i bastoni tra le ruote rende più lento rendere più lento l'intervento di chi è preposto appunto a mettere una pezza tra virgolette sull'incidente rifaccio un attimo la parentesi se non lo sapeste anche se dovrebbe cioè immagino che tutti voi lo sappiate RDP è il protocollo più utilizzato in assoluto lato Microsoft per accedere da remoto a una macchina a un server e quindi amministrarlo da remoto se io impedisco che quel protocollo lì possa essere utilizzato su una macchina e di fatto ho tagliato via tipo l'80% delle possibilità di amministrarlo e quindi di agire di conseguenza rispetto all'incidente devo andare poi a trovare un altro modo per farlo che comunque magari mi prende più tempo poi guarda che bella cosa perché dice in ultimo il wiper corrompe tutti i file numerati ad eccezione di alcune estensioni quindi .exe .dll e via dicendo e dell'estensione tra virgolette proprietaria .cry inoltre dice e questo è un po' il punto dell'articolo adesso arriviamo un po' alla schippa diciamo le directory windows system and boot quindi quelle che servono ad accendere il computer di fatto ad accendere il sistema perché dice così prevengono il fatto che il computer diventi totalmente inutilizzabile cioè come umano lei allora il discorso qui in realtà è abbastanza interessante non ci avevo nemmeno pensato il punto è che molto nello specifico gli operatori in questo caso volevano danneggiare i dati ok interessava coprire tutti i dati utili ok tutti i file che contenessero dei dati utili e qui ci rifacciamo ai database alle alla posta elettronica e così via evitiamo di perdere tempo con gli eseguibili con i file collegamento e così via cerco invece tutti gli altri file che possono contenere dati e non arrivo invece a cifrarmi o corrompere i dati di sistema perché cosa può succedere che il sistema non funziona più magari si spegne da un momento all'altro perché ho cifrato qualche file utile per il sistema e da quel momento poi il malware non può più raggiungere il resto dei file invece no mi sono preoccupato esattamente di raggiungere tutti i file interessanti ma solo quelli tutto il resto no ma poi soprattutto Giorgio più banalmente e qui entro proprio nel lato venale no se io ti impedisco di accendere il computer tu non vedi quello che viene subito dopo ovvero la mia finta ransom note sì non è vero però il punto secondo me è un altro qui cioè adesso arriviamo al punto in cui si scopre che il malware utilizza di fatto un un algoritmo di pseudo randomizzazione cioè di fatto riempie il file di lettere e numeri a caso no per dirle in maniera molto banale il che significa che non lo sto cifrando lo sto completamente riempendo di merda tale per cui ho sovrascritto tutto quello che c'era prima e quello che c'era prima non esiste più a meno che tu non abbia delle cappero quindi lì si capisce che in realtà c'è un obiettivo molto specifico che è quello di danneggiare tutti i dati che ci sono io voglio che alla fine la vittima non riottenga più indietro tutti i file quindi il punto è che se io accetto a tutte le direttore di sistema e magari prima di raggiungere tutti i dati interessanti danneggio prima il sistema potenzialmente poi si possono andare a recuperare una fetta dei file che ancora non erano stati raggiunti dal malware quindi io la interpreto più in questo modo però è vero che nell'ottica di un ransomware generico quindi non quello che vuole non i wiper di fatto allora hai completamente ragione io voglio che si veda la ransom note voglio che qui entra inietro no no ma in questo caso cioè proprio per il fatto che ti ho tra virgolette fregato no nel senso ti faccio credere che sia un malware voglio il riscatto ma i tuoi dati sono già belli che andati a maggior ragione voglio farti leggere la ransom note e non voglio farti vedere i file tra virgolette distrutti qui sarebbe interessante peccato che non venga specificato non so nell'articolo di Kaspelsky verificare se il l'indirizzo del wallet bitcoin sia di fatto funzionante o meno nel senso si bisognerebbe vedere bisognerebbe vedere se questo vabbè non è difficilissimo da vedere poi magari facciamo una piccola analisi anche noi e vediamo di pubblicarla sul forum no assolutamente era interessante capire se oltre il danno la beffa cioè io mi faccio proprio pagare indietro anche se non è quello il mio obiettivo già che ci sono raccolgo un po' di soldi secondo me si può darsi può essere oppure è tutta una farsa nel senso in realtà non hai nemmeno modo di pagare no? è solo per depistare per far perdere tempo quindi bruciare tra virgolette moneta virtuale non lo so non lo so anche perché ricordiamocelo se quell'indirizzo non fosse attivo quel wallet non fosse attivo quei soldi in realtà non sono persi o meglio sono in un buco nero finché non si crea un wallet con esattamente quell'indirizzo no esatto ma il punto più che altro secondo me non è quello cioè io so che se lancio un ransomware ci sarà tutta una fetta di tempo in cui la vittima dovrà decidere se pagare o meno ok? quindi perde tempo senza andare a capire che in realtà i dati sono corrotti non vado a capire se non vado a fare un'analisi per capire se posso ricevere i file dietro perché sto analizzando il fatto posso o meno pagare se invece io non ho la ransom note quindi non ho il modo di pagare mi accorgo prima i file sono corrotti e amen quindi sto anche facendo perdere ulteriormente tempo alla vittima che si sta concentrando sulla cosa sbagliata non so se se rendo l'idea no? sì sì aspetta un attimo perché intanto sto rispondendo anche in chat no no va benissimo intanto stavo riguardando un articolo vabbè la ransom note di fatto chiedeva 0.5 bitcoin eccola qui sotto sì parliamo di circa 8 mila dollari ma bisogna vedere al momento della scrittura ad oggi non so quanto in quel momento in quel dato esatto credo che adesso sia qualcosina di più vabbè dice che l'algoritmo per la corruzione è basato sul MERS and Twister cioè un pseudo random no? l'RNG sì perché in una spesa si dice pseudo random perché tecnicamente la randomizzazione vera non esiste sì si può dire non esiste o comunque non è tecnicamente raggiungibile come concetto no? per cui ci sono delle pseudo randomizzazioni ci si avvicina a quel concetto esatto intanto approfitto per rispondere anche direttamente a Recchia che dice giustamente correggeva me in un certo senso dice quei soldi sono statisticamente persi sì sono statisticamente persi nel senso che come dicevamo appunto se il wallet non esiste la probabilità la possibilità di generare una chiave privata per quell'esatto wallet è veramente infinitesimale magari sarà un caso su x miliardi però quello che si dice nella teoria della diciamo della blockchain o comunque della moneta virtuale è che quel denaro non è veramente perso è semplicemente congelato su un conto su cui non puoi accedere esatto almeno dal dal punto di vista forense viene visto così è congelato su un conto che potenzialmente può esistere cioè un domani potrebbe esistere e tra un milione di anni qualcuno a quel punto si troverà i crediti congelati rubati da questo ransomware questa comunque era una nostra speculazione perché appunto non abbiamo in questo momento questa informazione però secondo me è anche molto interessante con l'aspetto e non mi fermo a parlare solo per dire passiamo alla prossima perché sì più o meno abbiamo coperto tutto però molto interessante non è il primo caso per cui si vede che insomma è piaciuto questo tipo di tattica e niente come al solito ragazzi fateci sapere un po' quello che ne pensate anche voi magari poi sul disco sì ovviamente fateci sapere sul canale sul forum anche perché veramente se no Stefano arriverà il momento che ce lo chiude e noi dobbiamo fare tutto purché esatto esatto dobbiamo impedire a Stefano è una crociata contro contro Stefano in distanza di discord adesso ti trovo al volo il nome ma è un mannaggia mannaggia scusate allora è la categoria forum ok perché si tratta di un canale forum il primo di queste è security black talk ci sono poi sotto anche i canali forum degli altri format esatto quindi la categoria forum su discord sotto avendo security black allora Giorgio direi a questo punto passiamo alla seconda notizia sì tanto rispondo approfitto per rispondere un attimo anche di nuovo ad ufficio al pappone ovviamente a fine live sarà nostra premura aprire i nuovi i nuovi topic quindi apriremo i i thread relativi alle notizie di oggi e chiaramente inseriremo i link degli articoli se avete qualcosa da aggiungere se avete altri link se avete approfondimenti se volete approfondire o fare domande chiaramente siete benvenuti allora passiamo alla seconda notizia che è quella che poi ha dato il nome alla live di oggi anche se devo dire che questa settimana notizie estremamente interessanti anche dal punto di vista tecnico vediamo 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 eccoci qui siamo pronti con la nuova scena fondamentalmente andiamo ad analizzare un caso di cyber spionaggio cosa succede sembrere come scusa Giorgio presunto tale presunto tale vediamo un attimino perché sembra che un threat actor quindi un'entità statuale cinese stia utilizzando dei dispositivi usb per compromettere delle entità nelle filippine ora già analizzando un minimo il titolo a me questa cosa vabbè come dire stessa merda altro giorno direbbe qualcuno utilizzando dispositivi usb compromessi uno dei trucchi più vecchi del mondo è un po' come il fishing sempre verde è sicuramente una cosa vecchissima e stiamo parlando comunque sempre anche qui di assunzioni cioè si parla di spionaggio non se ne hanno le prove effettive ma in realtà il ragionamento è molto semplice è vero che l'utilizzare chiavetta usb o comunque altri dispositivi portatili diciamo dispositivi hardware da attaccare al computer della vittima è la cosa più vecchia del mondo no? anzi forse l'abbiamo accennato una volta il il primo ransomware è stato distribuito tramite floppy disk quindi veramente è veramente la roba più vecchia del mondo il punto è che oggi ovviamente non è molto utilizzato si preferisce per comodità più che altro sfruttare quelle che sono delle falle di rete da remoto perché tanto ce ne sono a bizzeffe ho solo l'imbarazzo della scelta io posso operare da casa mia senza esformi quindi senza dover spedire qualcosa senza dovermi recare fisicamente il logo per lasciare senza dover pagare qualcuno che la metta al posto mio quindi sfruttare un insider insomma mi risparmia sì mi risparmia tanto lavoro anche di ricognizione di studio del mio target secondo me è proprio un discorso di rischio cioè se stiamo parlando veramente di state sponsor quindi qualcuno che è sponzato dallo stato lo stato non ha l'interesse nel farsi beccare mentre sta compromettendo una nazione nemica quindi se io posso minimizzare il rischio e quindi fare tutto da remoto è molto meglio certo qual è il punto proprio in quest'ottica le infrastrutture più critiche in assoluto solitamente dovrebbero fare quello si chiama un sistema air gap cioè senza alcuna connessione ad internet è una rete diciamo locale completamente disconnessa da tutto quello che c'è all'esterno proprio per quel motivo lì se il rischio grazie mille di UL89 ben arrivato grazie per il tuo follow grazie mille se il rischio che io corro è troppo alto solitamente in contesti militari si fa una cosa del genere o non lo so abbiamo nominato Staxnet prima molto simile alla situazione con una centrale nucleare aveva una rete air gap in effetti in Atanz quindi sono completamente disconnesso per cui qualsiasi vulnerabilità che io abbia perché ne avrò comunque non sarà raggiungibile dall'esterno certo però perdonami io mi permetto di citare di nuovo Rocco che recentemente ha iniziato a parlare se non sbaglio di attacchi a sistemi air gap e ne esistono ne esistono e come di attacchi a sistemi air gap ne abbiamo visti abbiamo dei proof of concept che girano su youtube viene utilizzato il cambio di velocità di un hard disk è chiaro che allora partiamo da facciamo un passetto indietro c'è bisogno per un attacca a un sistema air gap di di lavorazione e la lavorazione sta nel supply chain attack cioè io comunque devo far arrivare qualcosa di compromesso all'interno dell'infrastruttura nel caso di staxnet è stata la chiavetta usb famosa che poi ha permesso di iniettare il malware in altri casi potrebbe essere una componente compromessa magari compromessa già in catena di montaggio tra virgolette no? cioè io so che quell'azienda si serve dell'azienda x che subalpalta i processori all'azienda y comprometto l'azienda y esatto devi sapere esattamente come dice Rocco che tecnologia hai dentro se io riesco però a fare questo da lì in avanti è tutta in discesa anche se il sistema air gap cioè devo solo aspettare il momento giusto e posso sfruttare non lo so l'analisi del consumo elettrico di quella determinata infrastruttura perché da quella posso capire quanti quali sistemi sono attivi quanti e quali sistemi sono spenti addirittura per le sfiltrazioni dati posso sfruttare il cambio di velocità di rotazione delle ventole o dell'hard disk perché il rumore che viene prodotto è diverso e quindi è come dire è incodabile tra virgolette quindi si può in qualche modo associare ad un codice binario certo secondo me il discorso è che non è che non ci siano dei modi ci sono dei modi ce ne sono tanti sia di compromettere sia poi di fare tutti i passaggi successivi di una compromissione e che questi richiedono di fatto un livello di complazzità sicuramente più alto e quindi più risorse sia in termini di tempo più che altro da dedicare e sia un rischio più alto nel senso che comunque l'attaccante si deve esporre di più dovrà avvicinare il luogo dovrà conoscere molto di più dell'infrastruttura target rispetto a semplicemente insomma accelerare moto e bloccare tutto quello che si trova e così via per cui il punto è proprio se io vedo quel certo tipo di effort allora posso diciamo assumere che probabilmente si tratta di qualcuno dei sponsor e probabilmente si tratta di spionaggio perché quello è la motivazione più alta che può portare un gruppo ad esporsi così tanto altrimenti il gioco non vale la candela e questo è un po' il punto no 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 è chiaro deve essere un obiettivo pagante comunque si Giorgio io aspetto con molto interesse scusami diceva Rocco in realtà dico aspetto con molto interesse il paper di Rocco così magari lo commentiamo come suggerisce anche lui va bene direi che abbiamo come dire sparlato un po' di sistemi air gap di attacchi a sistemi air gap anche a sufficienza che dice andiamo avanti con l'articolo assolutamente allora parliamo di di fatto un'analisi di mandiant dove si va a tracciare questo threat actor che non ha ancora diciamo un nome generico viene identificato come unc 41 90 e l'analisi risale a settembre 2021 o meglio l'analisi ha come target una campagna che può essere che risale fino a settembre 2021 il threat actor in questione si è visto targettizzare diversi diversi stati sud-est asiatico stati uniti europa e anche insomma all'oriente giappone compreso il punto è che ogni qualvolta che si identificata si identificava una location fisica del target del threat actor questa era puntualmente nelle filippine da qui del titolo e la cosa di fatto interessante del motivo per cui abbiamo fatto il pippone sui sistemi air captain su le chiave 2d è che appunto il vettore di attacco identificato quindi la maniera con cui si è stabilito il cosiddetto first foot hold quindi il primo step il primo passo dentro dentro la rete target è proprio una chiavetta usb drive non è la prima volta come abbiamo già accennato abbondantemente che si vede qualcosa di simile però è molto interessante invece il funzionamento del malware di fatto incluso nella chiavetta usb si andiamo a vederlo perché è un pochino più giù si ecco qua fondamentalmente il malware sulla chiavetta dà via a una catena ti attacchi no una catena composta da tre passaggi che attivano questi attivano scaricano attivano insomma fanno un po' di 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 macello tra virgolette e insieme a tutto ciò fondamentalmente tirano giù anche netcat che è un tool uno strumento utilizzato per creare delle connessioni fondamentalmente no era era in origine il coltellino svizzero degli amministratori di rete per fare troubleshooting delle reti cioè si poteva fare tutto per analizzare comunicazioni per trovare dove stava il problema all'interno della comunicazione molto più recentemente no oddio non è che recentemente diciamo è stato riciclato è stato gli è stato trovato un nuovo un nuovo utilizzo mettiamola così perché appunto è molto comodo per creare delle cosiddette reverse shell quindi configuro un processo nella macchina della vittima che mi chiama indietro per darmi una porta d'accesso per darmi una backdoor in sostanza no e quindi dicevamo attenzione grazie mille Daynon per il tuo follow ben arrivato su security cert grazie allora dicevamo fondamentalmente la prima parte prevede questo l'utilizzo di questo mist clock fondamentalmente è un malware che infetta il dispositivo usb viene attivato nel momento in cui la usb viene plagata viene inserita all'interno di un sistema e innanzitutto fondamentalmente fa da piattaforma di lancio come dice l'articolo no fa da launchpad per un payload cifrato chiamato dark duke è il secondo step la seconda fase e qui secondo me c'è la parte più interessante di tutto l'articolo no che è quella che infetta il resto dei dispositivi rimovibili quindi la maniera in cui si ripropagano esatto 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 abbiamo detto appunto che scusami vai 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 tranquillo abbiamo detto appunto che si è scelto la chiavetta sb perché non possono aggiungere a livello di rete il sistema il punto è che se io non voglio infettare un solo sistema ma quanti più possibili all'interno dell'infrastruttura devo trovare oltre che la maniera di entrare quindi dell'initial access anche la maniera di fare lateral movement certo se c'è una una forte segregazione delle reti cioè non solo io sono completamente scollegato dal resto del mondo anche all'interno o tanti piccoli silos che non si parlano tra di loro non possono parlare tra di loro se è stato fatto bene il punto il depredimento della rete io cosa faccio quando la chiavetta usb infetta viene inserita e compromette il primo sistema qualsiasi altro dispositivo rimoribile quindi qualsiasi altra chiavetta usb disco esterno e compagnia cantante viene infettata allo stesso modo certo così che nuovo seconda chiavetta la stacco da questo pc la metto in un altro gpc magari in un altro di quei silos scollegati e così vado a propagarmi all'interno della rete cioè secondo me è la parte più interessante di tutto l'articolo allora passiamo al terzo stage a questo punto sì comunque abbiamo detto abbiamo visto il vettore iniziale abbiamo visto la propagazione quindi il movimento laterale andiamo a vedere che cosa succede nella terza fase quindi dice anche l'articolo dice chiaramente il malware si replica autonomamente infettando tutti i dispositivi rimovibili e ovviamente come dicevi tu Giorgio va a compromettere il resto dell'infrastruttura air gap dopodiché dark due quindi questo secondo step fa un po' da lancio ad un altro eseguibile quindi da via ad un nuovo eseguibile cioè datecheck.exe che ovviamente in realtà non è il legittimo datecheck.exe perché insomma esiste questo processo che esiste questo eseguibile ed è conosciuto come Razer Chromium Render Process a quanto pare ma che in realtà nel caso specifico del malware invoca questo appunto blue ways blue ways scritto anche questo in cc++ ci dice l'articolo fondamentalmente fa partire una copia di netcat quindi apre questo canale di comunicazione questa connessione come dicevi anche tu per creare una reverse shell e qui mi mi casca un po' l'asino in un certo senso perché nel terzo step quindi in blue ways c'è l'indirizzo del comando e controllo hard encodato cosa significa che è hard encodato che all'interno del codice dell'eseguibile è scritto in chiaro o comunque è scritto in chiaro o meno poi sta a chi fa reverse engineering scoprirlo l'indirizzo del comando e controllo ora di solito non è un cioè hard encodare dati sensibili all'interno di un di un eseguibile l'abbiamo sempre detto anche nel caso delle applicazioni che hard encodano delle credenziali diciamo che non è proprio la best practice in nessun caso non nei casi legittimi e nemmeno in quelli non so vorrei capire se sia in chiaro o meno sarebbe interessante in realtà approfondire l'analisi fatta da Kaspersky leggere il loro report e vedere cosa ne pensano attenzione mandi anche in questo caso ah giusto perdonami scusami ero rimasto all'articolo di prima sì 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 ero rimasto all'articolo precedente fatto sta che comunque ecco non è la migliore delle pratiche no non è identifichi quel command in control ed stiamo parlando di un indirizzo IP perché qui parla di indirizzo generico magari non vorrei che non parlo di indirizzo IP ma in ogni caso blocchi quello lì se è solo quello esatto è bloccato diciamo se non c'è una base di rotazione se non c'è insomma ci sono tanti tanti dettagli di cui tener conto esatto proprio quello che diceva official pappone in chat dice nel senso che è in chiaro l'indirizzo IP a cui si rifà il C2 non basta bloccarlo allora se l'indirizzo fosse completamente in chiaro sì basta bloccarlo tendenzialmente comando e controllo rimane lì inerte tra virgolette bisogna vedere se non sia in qualche modo encodato all'interno del codice chi fa malware analysis sa perfettamente che spesso e volentieri la cosa viene offuscata in qualche modo attraverso il passaggio per tante e diverse funzioni quindi la cosa rende molto più difficile risalire a quell'indirizzo no? sì anche perché il punto è che magari riesci a capirlo a un certo punto ma dopo quanto tempo no? esatto quanto ci metti quanto ci vuole non è una cosa così immediata no? esatto va bene o generarlo dinamicamente esatto cioè ci sono tanti modi ci sono tanti espedienti ci sono tante tecniche io non so se questo può essere come dire indice del livello del threat actor cioè non so se considerarlo all'effettivo un indice del livello del threat actor sai cosa il punto è che secondo me ci manca qualche pezzo anche secondo me nel senso che dipende tutto dall'obiettivo del malware in questione perché se io una volta stabilita per la prima volta la reverse shell cioè io a quel punto ho accesso da remoto al sistema in realtà mi metto altre 7000 backdoor all'interno di quell'indirizzo te te ne frega te ne frega sì 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 è chiaro bisogna vedere quello che fa poi il resto del malware bisogna vedere se c'è altro che non c'è stato detto perché insomma Mandiant ha fatto la sua analisi ma non credo che l'abbia pubblicata esatto almeno sull'articolo non c'era no infatti poi c'è da dire che Mandiant menziona lo spionaggio come ipotesi ma il punto è che se non fosse spionaggio e questa è un'ipotesi mia e fosse invece solo magari distruzione cioè mi interessa anche qui fare danni potenzialmente dopo la prima comunicazione con il command and control invio il comando per fare quei danni e poi non mi interessa più di mantenere l'accesso quindi dipende sempre da qual è l'obiettivo finale da quali sono i passaggi successivi al command and control magari se secondo diciamo il piano originale una sola o comunque poche connessioni con successo verso il command and control erano insomma abbastanza no per per arrivare all'obiettivo finale e potenzialmente invece diversificare la comunicazione al command and control e quindi utilizzare più indirizzi o una dinamicità e così via poteva rendere il tutto più rumoroso e quindi dare più possibilità agli analisti di identificare l'incidente non lo so adesso sto facendo un po' di di supposizioni però insomma dipende un po' ci mancano un po' di informazioni per capire un po' intanto volevo volevo leggere un attimo il messaggio di Daynon in chat ridando di nuovo il benvenuto e ringraziandolo per il follow vedo che è il suo primo messaggio in chat virus combiner che si trasformano o si agganciano ad altro per trasformarsi in infettivi o debilitanti allora l'articolo insomma ci fa pensare proprio a una chain di tre pezzi di malware diversi che non hanno niente a che fare l'uno con l'altro poi non so se tu stai parlando di polimorfismo del virus del malware in generale cioè quelle sono tecniche per evadere diciamo l'antivirus ma di per sé il malware in sé è scritto per fare una determinata cosa che può portare al download di altre cose chiaro fa da stager quello che viene definito lo stager addirittura combiner cioè concatenare cosa però se già ho il mio malware dentro che fa quello che deve fare e posso fare altre cose attraverso un altro pezzo di malware che semplicemente viene scaricato magari mascherato magari reso legittimo magari da un indirizzo che non viene bloccato cioè stai citando delle tecniche di evasione quindi per non farsi identificare da un sistema di identificazione che però non ci sembra il caso specifico di questo di questo articolo o almeno non viene citato niente di simile i tre diversi esegibili i tre diversi malware che vengono citati sono semplicemente uno per ogni fase della compromissione il primo non fa altro che propagare l'altro non fa altro che far partire un altro processo e così via quindi non c'è non viene specificato magari c'è ma non lo sappiamo ma non viene specificato in quel che abbiamo detto finora alcuna tecnica di evasione particolare come quelle che hai citato si unisce a codice già presente ah quindi dici fondamentalmente si si lega a qualcosa di già presente sul sistema più che legarsi io penso che lo sfrutti in caso cioè sfrutta appunto quelle vulnerabilità magari di dll già presenti insomma qualunque altro tipo di file possa generare una vulnerabilità poi si ripeto stai parlando mi sembra di capire che stai parlando di polimorfismo del malware ma quello è un altro discorso è una tecnica appunto per evitare la detection no? esatto però ripeto un secondo io non 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 ne vedo il collegamento con questo articolo in particolare per quanto di fatto è probabile che abbiano utilizzato tecniche simili però insomma non non in questo contesto non dalle informazioni che abbiamo va bene Giorgio io direi rimandiamo eventuali approfondimenti al forum assolutamente e andiamo avanti con il prossimo articolo sì 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 diciamo che abbiamo coperto tutto quanto ok allora prossimo articolo andiamo un attimino a sistemare la scena eccoci qui dal titolo si capisce benissimo che è un po' un ritorno di fiamma no? in un certo senso Last Pass ha subito un secondo breach il primo è stato di agosto se non sbaglio agosto di quest'anno quindi ancora non avevamo iniziato con security break e non ne abbiamo parlato gran peccato dovremmo recuperare ma è ormai ormai andata come dire abbiamo perso l'occasione questa merita una parentesi addirittura prima di iniziare vai Giorgio tutta tua per chi non conoscesse Last Pass Last Pass è un servizio in cloud quindi di fatto online di password manager cosa significa? seguendo il concetto dell'Undable utilizzate sempre una password diversa per ogni account su servizi di terza parte quindi voi avete la vostra email con una password poi siete iscritti al forum sul nostro discord su twitch e così via come best practice dovete creare password diverse per ognuna di questi di questi servizi e ognuna dovrebbe essere abbastanza complessa si consiglia generalmente l'utilizzo di un password manager quindi un qualcosa che ti genera in automatico le password e te le salva in un database così che tu non debba ricordarle tutte e nel tempo si sono venuti a creare servizi come Last Pass Last Pass non è l'unico dove tu di fatto ti abboni al loro servizio e da ovunque perché appunto è un servizio in cloud tu puoi connetterti e avere accesso al tuo database di password tramite la cosiddetta master password cioè esatto l'unica password che sblocca tutte le altre quindi voi ne ricordate una e sotto avete il vostro centinaio e passa di password per i vari servizi ora il punto è che che succede se il vostro password manager online viene evocato adesso ne parliamo allora cosa è successo fondamentalmente di nuovo dopo appunto gli eventi di agosto anzi proprio per tramite degli eventi di agosto sembrerebbe quindi lo stesso threat actor secondo chi ha scritto l'articolo si è introdotto all'interno di un cloud che Last Pass condivide con la sua affiliata appunto GoTo e che ha fatto sì che venissero come dire riccati quindi rivelati i dati di un bel po' di utenti se non sbaglio no? si vengono citati a qualche parte si si vabbè ma lo vediamo lo vediamo man mano fondamentalmente che cosa è successo mercoledì la attenzione c'è un messaggio in chat di è difficilissimo da leggere questa si Metal 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 quindi Metal 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 andrà benissimo che dice il DB delle password deve essere dove dico io non in un servizio centralizzato dove ha deciso qualcun altro sì condivisibile meno condivisibile l'archivio cartaceo forse nel senso dovrei tenerlo in cassaforte sotto chiave sì allora sicuramente sono varie filosofie che in realtà no secondo me siamo aprendo un vaso di Pandora siamo aprendo un vaso di Pandora sì tra l'altro infatti a breve vi stoppo ragazzi semplicemente perché allora tutte in realtà queste filosofie hanno un diciamo dei pro hanno anche di vero dipende sempre dal contesto dipende dal rischio che tu in prima persona stai correndo nell'esporre le tue password e così via nulla toglie dal fatto che in realtà un servizio come LastPass è comodo non che sia il migliore la migliore scelta da fare però è sicuramente un comodo per molti per molti aspetti che succede se tu perdi il tuo database perché non sono tutti tra virgolette bravi come te un te generico non mi sto rivolgendo a qualcuno in particolare a gestire il proprio database in in autonomia no? si si utilizzo un servizio in cloud come LastPass perché mi mi garantisce pagando con il loro servizio che io non perda mai accesso alle mie password quindi io non perda l'accessibilità ai miei servizi ai miei dati e così via quindi hanno il loro perché forse non è la migliore scelta ma dipende un po' dal contesto ma ti dirò guarda questo è un discorso che io ho affrontato anche ieri in serata nel senso come sempre se si è in grado come dicevi tu di gestire la tua tra virgolette infrastruttura anche in casa no? parlavamo in realtà di domotica in generale però diciamo che il concetto è applicabile se sei in grado di gestire la tua infrastruttura in casa quindi di avere anche la parte server proprietaria tra virgolette sotto il tuo completo controllo sicuramente è un'opzione da non sottovalutare il discorso di chi offre questi servizi è io do per scontato che il 90% degli utenti che sfruttano il mio servizio non siano in grado di tirar su e di controllare l'infrastruttura necessaria affinché il mio servizio funzioni quindi è vero che ti do il lato client perché ti offro a conti fatti l'applicazione lato client ma dietro l'infrastruttura lato server ce la metto io e l'amministro io poi è chiaro che anche dall'altro lato c'è chi non è in grado di amministrare una determinata infrastruttura e l'abbiamo visto ma non tanto per inesperienza cioè tirare su mille volte chiunque vulnerabile esatto forzatamente una colpa tua che tu hai fatto le cose male chiunque ragazzi non c'è nessuno che può dichiararsi a me non me tocca nessuno esatto esatto io posso prevenire il 100% degli attacchi non esiste c'è da dire che sicuramente tu come erogatore di servizio di gestione delle password sei particolarmente sotto l'obiettivo di dovresti essere anche molto bravo a proteggerti certo dovresti essere in grado di ardenizzarti a un certo livello inoltre mi permetto di dire Salvatore cioè Salvatore Turi che ci dice tutto quello che è in cloud non è mai sotto il tuo completo controllo è un po' provocatorio no perché io mi permetto sempre di fare mia questa citazione che in realtà trovo molto corretta ovvero non esiste il cloud esistono i computer degli altri cioè a conti fatti che cos'è il cloud è una decentralizzazione delle mie risorse io vorrei dare un'altra chiave di lettura cioè ragazzi la frase di Salvatore è perfetta no tutto ciò che venga non è mai sotto il tuo completo controllo ed è verissimo che succede però se è peggio se è sotto il tuo controllo cioè esatto stiamo parlando tra esperti e tutti abbiamo la presunzione ma io mi ci metto dentro la presunzione di dire se me lo gestisco io è meglio perché io sono più bravo ci tengo di più ci faccio più attenzione ma se io parlo con mio zio cinquantenne che si occupa di tutt'altro nella vita e a malapena usano smartphone io piuttosto che far rimettere la data di nascita come password ad ogni volta io gli consiglio di usare la spazio perché l'opzione gestisci della tua infrastruttura e il tuo password manager locale non è fattibile uno perché io non ci lavoro a gratis per mio zio e questo è un mio problema personale ragazzi fate un po' perché riuscite quel che volete però questi sono servizi per chi non può non vuole non ha tempo e via dicendo non è il punto ah io che sono che mi scrivo il mio software per il password manager da solo io sono meglio certo per carità se tu sei in grado di insomma hai skill tali da fare qualcosa completamente in autonomia e ad un livello migliore fallo il punto è non tutti sono come te e qui ci sono servizi per il resto della popolazione mondiale no? per cui sì possiamo discutere all'infinito io sono il primo a in realtà non utilizzare tutti i servizi perché sono d'accordo con voi ma capisco benissimo che il target di mercato di questi servizi è un altro no? non è non è lo smanettone meglio sicuramente certo vabbè ma insomma ripeto stiamo abbiamo aperto proprio un vaso di Pandora Giorgio mi permetto di dire in questo caso è anche un motivo per cui è interessante la notizia no no è chiaro è chiaro assolutamente andiamo avanti andiamo avanti come è nato tutto fondamentalmente hanno detto che si sono accorti di attività insolite su questo cloud condiviso tra l'altro di terze parti quindi non lo so dico per dire cloud av bucket s3 av qualunque cosa stiamo parlando potenzialmente di uno di supply chain no? esatto non direttamente l'azienda ma un po' grazie cura Nakai scusami Giorgio se ti interrompo grazie cura Nakai per il tuo follow benvenuto benvenuta si quindi non direttamente l'infrastruttura di LastPass ma quella parte di infrastruttura esternalizzata su un cloud provider non meglio identificato potrebbe essere Google Cloud Aruba si si qualunque cosa e quindi niente hanno hanno trovato hanno identificato questa attività un po' sospette hanno immediatamente lanciato l'allarme insomma a memory di quello che è successo ad agosto hanno ingaggiato appunto Mandiant che si è preoccupato di fare le analisi fondamentalmente la stessa cosa è stata dichiarata dall'affiliata di LastPass quindi GoTo ha detto abbiamo visto proprio le stesse attività insolite ma pensa un po' il tweet di LastPass cita proprio ci hanno bugata noi a GoTo pure in maniera chiara però si nel frattempo GoTo che comunque è un'azienda anche a sé stante anche se sia affiliata ha lanciato lo stesso giorno un altro annuncio del tutto simile esatto quindi poi cosa è successo fondamentalmente vabbè GoTo ha detto che tutti i suoi servizi rimanevano comunque funzionanti e via dicendo e allo stesso tempo LastPass ha annunciato per la seconda volta perché era già successo la volta prima sì è vero c'è qualcosa che non va stiamo analizzando però le vostre password sono al sicuro esatto perché perché però Giorgio spieghiamo il perché LastPass ritiene che le password degli utenti siano al sicuro fondamentalmente quello che LastPass dice è che loro applicano una politica zero knowledge l'hanno definita se non sbaglio cioè per quanto le tue password siano salvate sul nostro cloud noi non teniamo traccia della tua master password in nessun modo che mi sembra un po' improbabile diciamo le password normali cioè le password all'interno del database sono comunque cifrate nel senso anche avendo accesso al database e di fatto LastPass ce l'ha l'accesso loro non riescono a leggere le tue password riescono a leggere solo una volta decifrate tramite la vostra master password a cui loro dichiarano noi non non ce l'abbiamo guarda io stavo arrivando proprio dove diceva dove dice adesso Salvatore Turi in chat il discorso è proprio quello io trovo improbabile che loro non abbiano traccia della master password perché a conti fatti per decifrare le mie password conservate sul tuo storage almeno l'hash della mia master password devi averlo sì no sicuramente in qualche modo una traccia ce l'hanno nel senso ovviamente da prendere per forza per forza non c'è alternativa non vedo alternativa non riesco proprio a vedere l'alternativa poi la password può essere più o meno forte quindi l'hash di conseguenza può essere sfruttato o meno per risalire alla mia password è più che altro è quello secondo me cioè il punto è l'hash anche avendo ora stiamo sicuramente semplificando probabilmente è un forse un po' più complesso dico sì però ammesso che ci sia un hash della master password quello da solo comunque non basta per accedere al database o comunque loro stanno dichiarando che cosa è stato compromesso e cosa no quindi le loro ti possono dire anche ad alto livello dove salviamo salviamo le hash del master password l'attaccante non ha avuto accesso ora possiamo di nuovo speculare un tot secondo me no il punto è che a loro dire visto come gestiamo la cosa l'accante non ha avuto modo di accedere alle password perché serve la master password in chiaro per come la conosci tu e in chiaro per come la conosci tu ce l'hai solo tu questa almeno è la mia interpretazione non lo so se la master slash allora hanno bucati già vorrei vorrei in realtà approfondire il funzionamento di Kipass ma non credo sia possibile farlo nel senso non credo che il loro codice sia open source o comunque che spieghino nel dettaglio il funzionamento della loro cifratura c'è un articolo c'è un articolo che loro stessi proprio nell'annuncio dell'incidente hanno condiviso per dire scopri di più sul come e perché nel tuo passo ti sono al sicuro non so a che livello tecnico scendono io però vedo sia Very Slow Flyer che Metal Art belli lanciati sull'argomento e gli chiederei di condividere questa loro conoscenza dei meccanismi dei password manager con noi non appena pubblicheremo il thread sul forum quindi se non l'avete già fatto unitevi al server di Discord Giorgio dall'alto della tua poltrona che a ogni live diventa sempre più importante ti chiedo la cortesia di fare il solito shout out grazie mille e vi chiedo se non l'avete già fatto di unirvi al server di Discord e a fine live magari darci una mano a capire qualcosina in più al riguardo in fondo c'è sempre da imparare ed è bello proprio per quello anche per i nuovi utenti ragazzi allora ovviamente noi prendiamo sempre ad oggetto degli articoli che come dire grattano la superficie di un problema molto più ampio molto più complesso su cui potremmo stare giornate a parlare non due ore la domenica mattina dobbiamo comunque autolimitarci per andare avanti e coprire più articoli e proprio per questo motivo esiste il canale su Discord per continuare la discussione dove noi purtroppo dobbiamo fermarci quindi vi ringraziamo assolutamente esattamente questo è il motivo per cui facciamo queste live per scatenare un po' la niccia di una discussione molto più ampia però noi a un certo punto in live dobbiamo purtroppo fermarci ma vi invitiamo a continuare oltre la live tra di voi con noi magari semplicemente in un altro canale bene cos'altro abbiamo da dire sulla spess Giorgio allora è interessante analizzare un attimo il collegamento con il brici precedente perché sta facendo molto scalpare il fatto che la spess che abbiamo già detto è particolarmente in una situazione critica cioè tu gestisci le password per altri milioni di servizi cioè nel momento in cui fosse confermato al momento non lo è che le password sono state compromesse ok le password sono degli utenti di la spas sono state compromesse a quel punto non è la spassa che è stata compromessa cioè è il tipo il 70% dell'internet che è stata compromessa e per questo che la spassa si trova in una situazione complessa ed essere bucati due volte a distanza di pochi mesi è molto molto grave ciò nel discorso è che lo scorso bridge di la spas è successo una cosa simile cioè la spasa ha detto sono stati è stato ceduto un tot di sistemi ma la cosa più importante cioè le vostre password sono comunque al sicuro non c'è da preoccuparsi e così via il punto è che anche il momento in cui questo fosse completamente vero cioè diamo per scontato per assurdo che veramente non c'è modo per gli attaccanti di accedere alle password il discorso è che evidentemente o non hanno completamente buttato fuori l'attaccante da mesi fa quindi la risposta non è stato il massimo oppure due forse ancora peggio avete buttato fuori i primi ma ci avevate ancora un'altra bella falla che ha permesso sì sì questo insomma anche qui apri un altro vaso di pandora nel senso se la risposta ad agosto non è stata radicale come dire cioè è proprio il concetto di eradicazione del ciclo di difesa del ciclo di risposta no? esatto eradicare non è togliere un pezzetto cioè eradicare è eradicare io ragazzi Francesco intende l'eradication nella parte di incident response si ha l'obiettivo di buttare fuori l'attaccante e assicurarsi che non ci rientra più nel mio sistema esatto se ci rientra più ho capito come faccio in modo che vi butto fuori a calci e non entrate manco dalla porta del retro esatto esatto quindi fondamentalmente grazie per la specifica Giorgio perché suonava un po' male permettimi di dirlo sì effettivamente però c'è l'aspetto aspetta perdonami effettivamente Very Slow Flyer fa una specifica importante cioè eradication uguale togliere quello che è invisibile allo strumento che usi sì ma no nel senso che lo strumento che usi ti permette di fare la detection e ci siamo hai il tuo vettore hai la tua magari prima persistenza non è da escludere non puoi almeno secondo me escludere che ce ne siano altre anche di non rilevate perché non è detto che il sistema che uso lo strumento che uso mi permetta di vedere tutte le persistenze o di vedere tutte le azioni del target compie giusto attenzione che ci tengo qui proprio perché mi è colpito sul vivo no non confondiamo detection con eradication con analisi in generale allora detection sono tutti quegli strumenti da qui mi collega al commento di Very Slow Flyer sono tutti quegli strumenti e processi messi in piedi per identificare un incidente e questa è una cosa se io identifico un incidente la risposta non si limita allo strumento che c'è già non si dovrebbe limitare allo strumento che c'è già per identificare io da lì espando ok le mie capabilities cioè anche nella maniera più banale quello che succede un milione di volte io ho i miei analisti interni che si occupano di identification identifico l'incidente da lì quello che ha fatto l'Aspas coinvolgo Mandiant che arriva espande gli strumenti a disposizione si mette a fare non lo so a catturare la memoria di tutte le macchine o a fare l'imaging di tutti i dischi e l'analisi ha un livello di profondità e complessità quindi non è vero che si limita allo strumento che ho perché se ti stai limitando lo strumento che hai già che ti ha fatto l'identification stai già sbagliando si no 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 sono d'accordissimo era proprio la specifica ed era in effetti quello che voleva poi dire anche Very Slow Flyer cioè tu sei certo di non vedere tutto perché il tuo tool di detection è parato per certe cose e non è detto che tu conosca tutte le tecniche tattiche e procedure e non è detto che le tue regole siano scritte bene per tutte le tecniche tattiche e procedure che un attaccante possa utilizzare c'è un lavoro come dire di fino molto certosino tu eradichi quello che vedi siamo d'accordo è chiaro pure che sotto poi deve essere fatto quello che diceva Giorgio cioè tutto il lavoro di response per cui vieni ti analizzi tutte le macchine ti fai l'analisi forense di tutte le macchine perché devi farlo cioè non puoi dare per scontato che ci siano se lo fai stai facendo response se no non stai facendo response esatto esatto da una parte fai detection e fondamentalmente cerchi di tappare con una tip top quelle che si usavano per le ruote delle biciclette la perdita dell'acquedotto di Roma fondamentalmente ok dall'altro provi a fare un lavoro un po' più infrastrutturale diciamo un po' più corposo non dirò mai che A è meglio di B onestamente perché ognuno sono due step diversi se vogliamo no 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 parlavo di un commento fatto da Verislo Flyer che fa due nomi di firme abbastanza importanti ma non dirò mai questa cosa anche perché non conosco nel dettaglio tra le due realtà insomma non le conosco nel dettaglio sì ma secondo me non è nemmeno il discorso di quale azienda fa risponze perché potenzialmente tu la puoi fare anche per conto tu internamente se ne hai risorse capacità e compagnia cantante quindi non stiamo qua a discutere su chi è più bravo no 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 infatti però ci sono tre mille variabili non è nemmeno l'azienda cioè l'azienda ti può mandare punto 1 analista 1 analista 2 certo non è che mai in mente è una persona sono migliaia è chiaro in realtà volevo riprendere anche quello che diceva official pappone cioè lui dice io dall'articolo avevo capito che loro sanno perfettamente che il threat actor è lo stesso di agosto allora loro suppongono che il threat actor possa essere lo stesso di agosto perché hanno detto attraverso le informazioni liccate nel bridge di agosto l'attaccante ha ottenuto accesso a questo cloud però e qui c'è un enorme però i dati di agosto da chi sono stati visti sono stati pubblicati nel dark web magari qualcuno li ha pagati per averli non possiamo dire a prescindere è lo stesso attaccante loro suppongono sia lo stesso attaccante io onestamente mi sento di dire di no nel senso che se fosse lo stesso attaccante probabilmente avrebbe approfittato di questa cosa molto prima non so quanto sia stato grande il bridge di agosto non lo so sai nel senso che allora non ne abbiamo i dati non possiamo dirlo per certezza ma potrebbe essere cesso il discorso che io attaccante ti buco tu mi scopri fai la tua risposta in incidente e io rimango stealth per cercare di mantenere un accesso quando tu hai abbassato il livello di attenzione è chiaro è chiaro torno a far danni quindi non esclude la possibilità ma allo stesso tempo sono d'accordo con te che non abbiamo no 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 io esprimevo soltanto la mia opinione nel senso se io ti faccio il bridge e nel bridge c'è fondamentalmente le credenziali di accesso a questo cloud perché immagino fosse qualcosa del genere non mi sento di di escludere la possibilità di approfittarne nell'immediato cioè il cloud è di terze parti quindi non è sotto il controllo di Raspass non è sotto la protezione tra virgolette di Laspass che quindi non aveva indicatori di compromissione su quel particolare cloud che cosa qual è il vincolo tra virgolette di sicurezza o di stealth che mi impedisce di approfittarne subito allora il punto secondo me oltre a questo secondo me le possibilità ci sono entrambi no? è chiaro ripeto io sto facendo elucubrazioni prettamente personale sto cercando di ragionare proprio per stimolare il tipo di ragionamento nel senso per difendere devi conoscere come uno attacca devi pensare come chi attacca ed è interessante arrivare anche a questo livello di ragionamenti secondo me è estremamente stimolante poi se qualcuno pensa che sia noioso fatecelo sapere ma ecco no 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 anzi secondo me è proprio di nuovo il nostro obiettivo più conversazione diciamo a scatenare meglio è perché è proprio la cosa utile di leggere le news se no ragazzi smettiamole tutti quanti di leggerle perché se non ne traiamo qualche spunto di riflessione allora non servono a granché per ritornare all'articolo semplicemente cerco di dare una spiegazione al perché della loro ipotesi no? perché potenzialmente potrebbero essere gli stessi attaccanti che tornano dopo un tot perché durante il primo breach quello che è stato dichiarato è che l'attaccante ha avuto accesso ai sistemi di sviluppo all'ambiente di sviluppo scusatemi cioè parte probabilmente dei tool sviluppati internamente in last pass non meglio specificati cioè non sappiamo se il password manager o altri software che sviluppano internamente è stato bucato durante il primo breach ora la risposta è stata fatta le ipotesi di un po' di personaggi che vengono citati anche dentro l'articolo sono quelle che attenzione perché non è che non hanno bucato le password allora è tutto a posto no? il punto è attenzione che se hanno avuto accesso a dei software sviluppati interni chi ce lo garantisce che quei software interni quel codice lì non è stato manomesso e che quel codice lì a un certo punto non avesse quelle famose credenziali arcodate cioè da qualche parte in quel codice in ambiente di sviluppo non ci fossero delle credenziali per accedere a quel famoso cloud che oggi di nuovo è stato bucato infatti una cosa che dicono il fatto che non avessero gli ambienti di development quindi di sviluppo e di test separati dall'ambiente di come si dice di produzione di produzione scusami ogni tanto continuo a perdermi termini avere nonostante avessero diciamo questa divisione come poi è best practice fare Shinigami grazie mille per il tuo follow benvenuto nella community di security cert dicevo il fatto che avessero comunque questi due ambienti separati non significa che quello che è stato mandato in in produzione successivamente a questo attacco non contenesse delle modifiche magari inserite ad hoc dall'attaccante nel lato di sviluppo non nel lato di developing development non ce la posso fare oggi cioè paradossalmente oddio non paradossalmente ma nel migliore degli scenari quello che avrebbe dovuto fare last pass in conseguenza del primo pitch era ripetisco proprio nel migliore degli scenari che nessuno puntualmente fa prendere tutto quel codice del sistema dell'ambiente di sviluppo buttarlo via si rifarlo da capo esatto perché non hai più la la certezza che da qualsiasi parte su tutte quelle righe di codice che potrebbero essere migliaia non lo so l'attaccante non avesse inserito qualcosa che dopo sei mesi dalla compromissione sei tu stesso a buttare in produzione backdoor sul sistema non lo so un processo latente che a un certo punto comincia una sfiltrazione pian piano delle password di tutto potenzialmente quindi uno o ti fai fare un audit esterno di tutto il codice che comunque non ti dà mai comunque una garanzia al 100% sicuramente da fare ma ti voglio vedere quanto ti costa in termini proprio economici di tempo quello che dicevano però è che in questo caso nell'articolo si fa effettivamente una citazione interessante secondo me cioè cercare il codice malevolo in un ambiente del genere è come cercare un ago in un pagliaio di aghi no no infatti praticamente impossibile per cui come dicevo in realtà era da buttare ma figurati se l'azienda va a buttare tutto il proprio codice interno possiamo discutere quanto vogliamo ma non è quello che succede perché semplicemente non cioè non è concepibile quanti soldi c'è quanto tempo effort soldi spesi l'azienda perde facendo un'azione del genere se si fa la bilancia comunque l'azienda deve decidere che non ne vale la pena noi da esperti sappiamo che è sbagliato no concettualmente sta di fatto che l'azienda non deciderà mai di fare una cosa del genere non è fattibile forse no 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 per i costi per i danni anche di immagine no ma il tempo cioè significherebbe bloccare tutto il processo di sviluppo finché non finisce la ricostruzione di tutto per carità per carità è attualmente impossibile tanto saluto approfitto per salutare Shinigami che ci scrive per la prima volta in chat salve ben arrivato anche a te e ora non so fra perché ho appena dato un occhio all'orologio e mi sono venuti i capelli dritti non avevo dubbi Giorgio lo sappiamo ormai cioè due ore non ci basta cioè dobbiamo scendere o scendiamo a tre articoli a settimana o due ore non ci basta scendendo finiamo gli articoli basta mettiamo con la live basta si infatti mettiamo un articolo al live buongiorno Carlo ben arrivato ben arrivato anche a te vedo tanti i primi messaggi in chat oggi vedo tanti tanti nuovi arrivi sono veramente contento ragazzi grazie mille significa che stiamo raggiungendo sempre più persone la cosa mi mi fa molto sorridere tra l'altro ciao Carlo noi mi sa che ci conosciamo e mi fa molto piacere vederti se sei la persona che credo se no mi stai prendendo in giro magari può essere va bene allora io direi sì tutto sommato abbiamo coperto tutto quello che dice l'articolo e ne abbiamo un altro molto molto succoso no sì estremamente succoso per cui direi di passare all'ultima andiamo avanti diciamo che questo articolo è in due parti a due componenti no questa notizia più che questo articolo e iniziamo da una abbastanza abbastanza pesantina intanto Carlo conferma esatto che è lui quindi vi conoscete mi fa molto piacere ciao Carlo bene allora annunciato nei titoloni annunciato in apertura di live andiamo a parlare insomma di metaverso in generale di meta di facebook meta facebook vabbè meta inteso come azienda come società esatto iniziamo però con whatsapp esatto perché whatsapp recentemente ha subito un data breach presunto presunto ancora una volta che sembrerebbe esporre i dati di 500 milioni di utenti sul sul dark web quindi giustamente l'articolo inizia dicendo se utilizzi whatsapp sappi che i tuoi dettagli potrebbero essere in vendita esatto se non sbaglio il primo input di questa roba qua è stata arrivata da check point si che ha trovato il leak qualcosa di quindi sostanzialmente tipo finora abbiamo parlato di analisi delle aziende che hanno risposto agli incidenti adesso invece è stato trovato un leak su un forum su dark web credo si mi pare di si 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 un hacking community forum scritto proprio nelle prime varie perfetto quindi qualcuno ha pubblicato online to io ho un sacco dei dati presi da whatsapp e contattatemi che ve li vendo un po' questa è la il succo della questione no ora sembra confermato il fatto che ci fosse un database bello corposo di dati che coprisse utenti di vari stati stiamo parlando comunque di 487 milioni di numeri di telefono una parte di questo leak di questi dati sono stati di fatto condivisi con un'attestata giornalistica per dimostrare che questi dati esistono veramente che non era una dichiarazione falsa e questa giornalistica ha appunto verificato che quei numeri di fatto appartenessero ad account whatsapp quindi in qualche modo confermando il leak però sembrerebbe almeno a leggere gli aggiornamenti che ci sono stati sull'articolo che vabbè la compagnia quindi meta sostiene che sia semplicemente un reuse di un vecchio leak di un database del 2019 ora la cosa non è meno grave secondo me a prescindere no no assolutamente l'unico discorso è che in realtà anche terze parti quindi altri ricercatori anzi credo proprio checkpoint ad un certo punto cosa hanno fatto hanno preso i dati del vecchio breach cioè facebook tempo fa era stata bucata anche lì tra virgolette nel senso era stata sfruttata una chiamata API disponibile su facebook su loro su loro sistemi e quindi qualcosa di tra virgolette legittimo lato loro qualcosa che hanno messo appositamente a disposizione per fare in modo che se tu hai il numero di telefono di una persona ottenevi indietro ok questo è il suo account questo è il suo account facebook con tutte le informazioni dell'account facebook che sono in un certo senso disponibili cioè non è niente di nascosto però quella API quella funzione disponibile ha permesso che qualcuno cominciasse a sparare i numeri di telefono a caso in maniera automatica ovviamente io ti sparo 500 milioni di numeri di telefono e per tutti questi 500 milioni tu mi restituisci tutte le informazioni che hai a proposito di quelle persone quindi hai praticamente ti sei tirato fuori metà del database di facebook sfruttando quella che era una funzione legittima di facebook al tempo ora quel database in realtà è anche ancora un po' disponibile online perché era veramente molto grosso e dava informazioni personali su un sacco di persone in maniera molto c'è anche se quelle informazioni erano già pubbliche tra virgolette una cosa è che tu ti vai a cercare sulla pagina facebook una cosa che tu fai una query su un database e ti ritorna tutte le informazioni che ti servono no? checkpoint ha preso una parte di questo nuovo come dire come si diceva nuovo insomma nuovo database ok esatto per dire se non sbaglio ha preso tutti quelli di uno stato specifico visto che era la l'attore malevole li sta vendendo per stato cioè si si ha diviso esatto tu mi dai tot migliaia di dollari e io ti do quelli tutti gli account degli stati uniti tot migliaia di dollari tutti quelli del brasile e così via si sono procurati una parte di questo leak specifico di uno stato sono andati a comparare il leak precedente e tutti i dati che c'erano disponibili di nuovo per quella nazione per quello stato specifico ed effettivamente c'è c'è stato un match 1 a 1 cioè i dati erano effettivamente gli stessi ora può essere un caso però come dire le prove sembrano indicare che di fatto è solo un riutilizzo cioè hanno preso dal bridge precedente che è ancora disponibile in giro hanno ricavato solo i numeri di telefono e per insomma per non farlo capire hanno detto ah questi li abbiamo tirati fuori da whatsapp non da facebook no? sì non è facile dirlo non è sicuramente certo insomma tutto quello che è successo è chiaro che però i numeri parlano da sé Giorgio cioè qui si parla di 478 milioni eh 487 milioni di numeri ai quali si può facilmente associare magari un nome ai quali si può facilmente associare un'immagine una foto un viso ai quali semplicemente si può iniziare a mandare pubblicità iniziare a mandare messaggi contenenti link contenenti cioè apre la porta a troppe cose troppe troppe cose ok sì sì allora sicuramente non è che non sia grave io intanto ho evidenziato scusami io intanto ho evidenziato il dato che riguarda l'Italia parliamo di circa 35 milioni di numeri sì sì non male io ho visto in realtà proprio un po' di gente online che confermava ah sì c'è anche il mio numero lì dentro fantastico io forse voi non lo farei esatto io non lo farei né tantomeno andrei ad inserire il mio numero in qualche portale o comunque ora il punto è e qui in realtà ci colleghiamo a quello che è il secondo articolo della stessa famiglia di notizie quindi vogliamo passare all'altro sì ma anche solo per introdurlo ok non è che l'avvenimento non sia grave il punto è facebook meta in generale è o non è stata bucata per una seconda volta perché oltre al fatto di essere stata bucata se fosse stata bucata una seconda volta meta in questo caso andrebbe incontro ad altre conseguenze non al brici in sé una di queste conseguenze è il fatto che può subire delle multe ricchissime multe oserei dire esatto perché in concomitanza cioè nella stessa settimana in cui questo presunto secondo bridge è stato annunciato la il garante della privacy irlandese sì assolutamente sì il il garante della privacy o meglio la commissione per la protezione dati irlandese ha emesso diciamo una una multa per un totale di 265 milioni di euro bruscolini cioè non non so nemmeno come si scriva 265 milioni di euro contro meta quindi la società di zugenberg è stata multata fondamentalmente già come se non bastassero i danni che sta subendo proprio per il discorso meta per questa sorta di esperimento fallimentare che sembrerebbe fallimentare insomma dal loro punto di vista però io non ho ancora approfondito l'argomento onestamente fondamentalmente per aver mancato di proteggere appunto i dati personali di circa mezzo milione circa mezzo miliardo quindi 500 milioni di persone di utenti stiamo parlando esattamente della stessa cifra di utenti si no il punto che stiamo parlando dello scorso bruscolini non di quello nuovo esatto quindi e appunto se forse confermato un secondo bruscolini stiamo parlando di altri 300 milioni rimonta tra qualche altro anno no si vabbè con calma purché arrivi come dire quindi la differenza sta lì non che non sia grave bucate o non bucate il punto è che fin quel database online da qualche parte i danni saranno perpetui esatto ma sicuro ovviamente anche perché quello che arriva su internet signori penso che lo sappiate ma rimane su internet cioè è quasi impossibile cancellarlo completamente un altro discorso se finché quei dati rimangono online qualcuno ogni tot tempo dice di aver di nuovo bloccato facebook e facebook se becca di nuovo tallo di immagine attenzione abbiamo un altro follow zabi maru grazie mille ben arrivato grazie per il tuo follow grazie ragazzi oggi bei numeri sono molto contento stiamo raggiungendo veramente una grande platea 500 no siamo un po è un po presto per i 500 però ti dico cioè io controllo i numeri più per curiosità no e ho aperto la live che eravamo a 422 vediamo a quanto siamo arrivati 423 adesso mi pare no 428 mi sono bloccato anch'io eh si si io pure ho dovuto fare un aggiornamento per vedere ma è ripeto è più curiosità perché è più avere la comprensione di quante persone stiamo raggiungendo perché la vera soddisfazione è quella assolutamente la vera soddisfazione è assolutamente quella sapere che stiamo comunque contribuendo a spandere il concetto di cyber security allora dicevamo sull'articolo che comunque sì come dicevi tu la multa è relativa agli eventi del 2021 si parla di aprile 2021 esatto 12 aprile 2021 esatto e ovviamente si parla di quello che dicevamo poco fa aspetta aspetta io mi sto emozionando perché qui tra gli scherzi di Frebel e le frasi c'è Salvatore che addirittura siamo fantastici Giorgio io sto arrossendo mi sento veramente grazie grazie ragazzi veramente sapervi così vicini sapervi così coinvolti è un piacere il leak del 2021 comunque includeva informazioni personali di 533 milioni di utenti quindi più o meno milione più milione meno parliamo della stessa cifra quindi magari non è da escludere che si tratti effettivamente di una porzione del leak del 2021 però anche qui anche fosse semplicemente una porzione che è tornata a galla è comunque un problema nel 2021 comunque è stato bucato direttamente facebook e non whatsapp e quindi si parla ecco numeri di telefono date di nascita posizioni o comunque città dove si abita indirizzi e mail vabbè genere come si dice stato civile la data di creazione dell'account insomma comunque tutte informazioni che messe a sistema o comunque comprate da qualcuno intanto portano sicuramente a una profilazione estremamente accurata profilazione possibile furto di identità furto di identità ma guarda voglio restare nel semplice pubblicità massiva cioè voglio restare proprio nel semplice senza voler entrare nell'ambito più dark tra virgolette di questo mondo no da pubblicità a phishing è un attimo sì il punto è che in questi due articoli si racchiude secondo me un sacco di di elementi super interessanti cioè punto uno le conseguenze di un data breach comunque di un incidente non si limitano mai a quelle dell'incidente stesso abbiamo parlato un sacco di volte danni di immagine e possibili multe come quella che stiamo citando in questo momento due i dati che finiscono online rimangono online quindi dati del 2021 ad oggi potenzialmente vengono spacciati addirittura per un nuovo data breach tre una cosa che ancora non abbiamo non abbiamo citato allora da quando dopo questa settimana ci sono fuori un po' di articoli che parlano di whatsapp data breach le elucubrazioni sono state cioè incredibile inimmaginabile c'è già gente che parla del ah non le comunità sono veramente cifrate forever excel grazie mille anche a te per il tuo follow giorgio continuiamo ad accumulare piccoli mattoncini road to 500 no ragazzi entro i prossimi sette minuti 500 dai grazie mille ben arrivato anche a te nella community dicevi dicevi giorgio perdonami ti ho interrotto per l'ennesima volta hai perso il filo perfetto ci arrivo dai ah no scusate cioè io da solo io personalmente già ho letto un sacco di recuperazioni su perché whatsapp è stata bucata ma quindi whatsapp in realtà non hai dati cifrati in realtà facebook ci spia ora il punto è quello ad una sola notizia vera falsa di un breach vero falso ci sono comunque delle conseguenze no ora addirittura qui potrebbe essere che whatsapp non è mai stata bucata no questo è solo un riportare alla luce un vecchio breach che tra l'altro è di facebook e di non whatsapp ok che stiamo parlando della stessa azienda a capo di tutti e due i prodotti certo ma il prodotto in sé non c'è prova in questo momento che abbia un qualche tipo di falla di qualche tipo però il punto è ci sono comunque delle conseguenze e attenzione anche ai vari le varie testate giornalistiche che rilanciano le notizie senza come dire confermarle perché si sta uno portando nuovi danni all'azienda che per carità qualcuno non io personalmente qualcuno potrebbe dire ah se lo merita chi se ne frega dall'altro dato dall'altro lato si sta facendo anche terrorismo psicologico cioè come conseguenza di questa roba la gente smette di usare whatsapp ah perché in realtà non è cifrata non c'entra niente no 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 chiaro cioè almeno non per quello che ne sappiamo oggi possiamo fare tutte le supposizioni del mondo anche senza aspettare i leak sul dark web però una cosa è prendere le informazioni prendere i dati che abbiamo e tranne delle conclusioni un'altra cosa è ci sono dei numeri di telefono online whatsapp è stata bucata whatsapp non cifre i dati tutti ci spiano i principi aspetta com'è che si chiama modus ponens e modus tollens i principi di logica per cui è successo alla conseguenza b esatto di conseguenza tutti bucati cioè tutti questi elementi fanno anche parte un po' del nostro mondo che ci piaccia o meno poi magari è ovvio che per qualcuno di noi è interessato più al lato strettamente tecnico come l'hanno bucata ma c'era una vulnerabilità vabbè però non è questa la sede no non è questa la sede perché abbiamo deciso di analizzare la notizia in maniera più generica di cercare di contestualizzarla il più possibile al nostro mondo esatto e il punto è questo ci sono varie e tante sfaccettature varie conseguenze che le aziende comunque tutte quante meta inclusa fanno fronte quando gestiscono i dati degli utenti quando non li gestiscono al massimo quando non si preoccupano troppo della propria security o semplicemente non pensano due volte prima di pubblicare una certa funzione perché in questo caso ribadisco ancora una volta non c'era alcuna vulnerabilità e si è tratto solo di sfruttare un po' un po' troppo una funzionalità del tutto legittima esatto cioè se non era già chiaro prima di nuovo una chiamata API quindi un la banalizzo un protocollo per rendere i dati del mio database accessibili agli utenti semplicemente in una via diversa rispetto a quella di avere l'interfaccia grafica quindi gli stessi dati che io vedo su una pagina Facebook del mio famoso zio di cinquantenne ok posso ottenere quegli stessi dati facendo diciamo lanciando una riga di codice per dirci no e farmi restituire i dati grezzi lo faccio per 500 milioni di numeri telefono e ottengo automaticamente il database di Facebook o insomma una grossa fetta sicuramente di quelli che sono i dati di Facebook certo i dati già pubblici il che non significa che sia meno grave e non bucandoli ma utilizzando una di quelle funzioni che Facebook aveva ben pensato a è una bella cosa diamola aiutenti una bellissima cosa come dire no no vabbè il mondo che c'è dietro è un abisso Giorgio lo sappiamo entrambi lo sanno anche i nostri spettatori insomma chi ci sta guardando deve avere come dire la consapevolezza che dietro a un attacco al di là del discorso errore no perché chiaramente c'è un errore da qualche parte c'è una piccola falla da qualche parte c'è un abisso nel senso che per arrivare a quell'errore che non è detto nemmeno sia voluto nel senso magari la funzione è semplicemente nata così ed è stato trovato un modo per agire è quella la mentalità hacker cioè trovare nuovi utilizzi nuovi funzionamenti nuovi meccanismi esatto i cosiddetti unintended non pensavo che mettere questa funzione avrebbe portato a quest'altro è un po' capire quello che c'è sotto al cofano io lo dico sempre analizzare nel dettaglio quello che c'è sotto al cofano e imparare come sfruttarlo non necessariamente per ottenere il risultato che chi l'ha programmato sperava Giorgio se sei d'accordo io a questo punto mi avvierei alla chiusura perché come al solito siamo arrivati cortissimi con i tempi però volevo un attimino parlare dei numeri che hanno visto coinvolta meta in questo periodo in questo periodo vai allora settembre 2021 farò un po' un elenco puntato un po' un po' di bullet settembre 2021 whatsapp è stato multato per 225 milioni di euro per non essere stato trasparente su come le informazioni personali degli utenti vengono raccolte ed utilizzate ovviamente condividendole con meta incredibilmente a marzo di quest'anno una multa di 17 milioni sempre a whatsapp no scusatemi facebook questa volta ah ok facebook facebook perché dice 12 differenti notifiche notifiche di data breach che hanno esposto più di 30 milioni di utenti di facebook quindi 225 più 17 già instagram è stato multato per la bellezza di 405 milioni di euro nel settembre 2022 per aver violato il gdpr perché sono stati questa cosa è fantasia esatto per avere malamministrato quasi parla di misandling quindi malgestito esatto i dati dei bambini online rendendo pubblici numeri di telefono e indirizzo e mail e queste ragazzi tre più precedenti esatto più quella da 265 milioni di oggi cioè in totale stiamo rasentando il miliardo il miliardo solo in multe da sostanzialmente del gdpr eh sì perché sono 405 più 225 oggi 580 più 265 facciamoci due conti volanti lo voglio fare per curiosità prima di salutarci vai mentre io cito solo un'altra cosa interessante giusto per non parlare solo male dell'azienda ragazzi di nuovo stiamo parlando degli articoli non è che noi ce l'abbiamo con quell'azienda tanto che viene citato che a seguito del famoso database che abbiamo citato oggi Facebook ha incrementato cioè espanso il loro sistema di bug bounty cioè esatto dove viene data una ricompensa a chi si prende la briga di segnalare le falle che vengono trovate e la espanso specificatamente includendo l'abuso di api che possono portare allo scraping cioè la raccolta dati esattamente quello che è successo quindi non è che ancora una volta stiamo facendo diffamazione dell'azienda perché guarda quanto sono incapaci guarda quanto sono stronzi e ah che bello che gli hanno fatto le multe il punto è ribadire per l'ennesima volta nessuno è invulnerabile e non diciamo non investire sulla security o comunque non cercare sempre di incrementare quella famosa sticella porta conseguenze enormi di immagine economiche di produzione e adesso appena Francesco si dice il numero totale ho finito ho finito di della quantità di danni economici di cui stiamo parlando solo per le multe figuriamoci tutto il resto la bellezza negli ultimi due anni mi sono morso la lingua mentre dicevo bellezza mi sono tipo fatto malissimo la bellezza di 912 milioni di euro cioè ragazzi è una cifra immensa immensa e vedevo un attimo la chat c'è Shinigami che dice ma TikTok non lo multano che passa dai cinesi ha avuto le sue le sue ramazzine adesso non ne abbiamo trattato noi ancora credo no oddio si abbiamo parlato di qualcosina di TikTok di quando è stato bucato il loro cloud però si ragazzi anche loro hanno avuto delle belle ramazzine dal grande della privacy quindi non è che se noi ne citiamo una tutti gli altri sono immuni no ma poi attenzione cioè si entra in un gioco geopolitico estremamente grande perché a quel punto dovremmo parlare di come per esempio gli Stati Uniti hanno fondamentalmente bannato tutta la tecnologia cinese dai loro apparati , governativi e non perché per esempio ai soldati dell'esercito americano è proibito utilizzare TikTok in generale in America non si possono vendere droni DJI non si possono vendere ed utilizzare droni DJI non si possono credo addirittura al momento vendere ed acquistare telecamere di provenienza cinese ma in questo caso credo nello specifico per gli edifici governativi non ne sono sicuro ma non sono gli Stati Uniti no 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 è chiaro è quello che stiamo di nuovo aprendo un vaso di Pandora che ci terrebbe qui tutto il giorno esatto veramente ci terrebbe qui tutto il giorno perché poi da un discorso si passa ad un altro è una catena di anellini che si infilano perfettamente uno dietro l'altro quello che ricordo chiaramente è stato il garante italiano che ha ripreso TikTok specificamente per la gestione degli account per bambini sotto i nove anni una cosa del genere che doveva essere impedito per policy cioè sotto una certe età non si può creare un account su TikTok ma non c'era alcun controllo per prevenirlo cioè bastava che il bambino dicesse no c'ho 15 anni esatto hanno dovuto cambiare le policy e anche insomma introdurre dei sistemi di controllo più più forti rispetto a quelli che c'erano prima quindi no di nuovo nessuno è immune però direi che direi che siamo arrivati alla fine direi che siamo arrivati alla fine Giorgio anche oggi devo dire che è stato un viaggio estremamente interessante due ore e qualcosa particolarmente intense e volevo approfittare intanto per ringraziare tutti quelli che ci hanno messo un follow che hanno lasciato un follow al canale e che io continuo ad invitare sul server di Discord per continuare poi eventualmente le discussioni volevo ricordarvi sia della partnership con Ponyx insomma di tutte le varie possibilità che ci sono abbiamo la partnership tecnica con Ponyx che ci supporta in lungo e in largo con i laboratori e le dimostrazioni abbiamo una partnership con OpenVPN ProtonVPN scusate sto dicendo sto svarionando ProtonVPN e ProtonMail dal 30 al 70% di sconto ma in chat passano continuamente gli annunci ma soprattutto volevo di nuovo sottolineare il fatto che è stata finalmente stipulata tra virgolette questa partnership con INE per acquistare corsi e certificazioni nell'ambito di Cyber Security ragazzi vi ricordo che noi ovviamente siamo raggiungibili sul server di Discord di Security Cert potete scriverci sul server senza problemi volendo troverete a breve credo dopo pranzo i thread nel forum di Security Break relativi agli articoli che avete visto oggi fateci sapere ovviamente se volete aggiungere qualcosa se volete continuare le discussioni Giorgio io come sempre ti ringrazio per la tua graditissima compagnia e per gli stimoli che ogni volta porti in live con noi ringrazio anche mentre apro mentre preparo la musica per la chiusura ringrazio anche tutti quelli che oggi ci hanno messo un follow ci hanno fatto compagnia in questo in questo appassionante viaggio di due ore spero che vi siete divertiti e spero che vi sia stato utile quello di cui abbiamo parlato noi ci vediamo prossima settimana vi daremo conferma comunque sia sul server che poi nei vari annunci sui social della data e non ci resta che augurare a tutti buon pranzo non so Giorgio se volevi spendere due parole per i saluti non posso che ribadire quello che hai detto tu io ringrazio tutte le persone che anche oggi ci hanno ci sono state apprese e stanno qui a guardarci mi fa tantissimo piacere vedere comunque i feedback la partecipazione nella chat i follow e tutto quanto non fanno che darci conferme che c'è dell'interesse dovremmo continuare a fare questo format ma ovviamente anche tutti gli altri che facciamo su Twitch quindi ragazzi grazie ancora ringraziamo anche Francesco ovviamente se sei qui comunque format questo ed altri non potrebbero sempre un piacere lo sai di andare avanti e niente anche io vi ringrazio e vi auguro e sulle citazioni belle cioè addio e grazie per tutto il pesce vi auguriamo una buona domenica e un buon proseguimento del fine settimana ciao a tutti ragazzi a settimana prossima ciao 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 ciao